Prima un pezzo metallico, poi un altro e un altro ancora. L'occhio attento di un ragazzo del Polesine, allora quattordicenne, Francesco Brocadello, si accorge anche grazie alla passione di suo padre che si tratta di pezzi di un aereo. È un mondo che si apre. Nel febbraio 1945 nessuno degli abitanti di chiesa di Frasinelle si ricordava dello schianto di un aereo abbattuto, erano quasi tutti sfollati, la battaglia delle ultime settimane di guerra infuriava. Ed invece il tenente Roberto Brandini era stato colpito. Attenzione, al di là del nome, l'aereo era un P-47 Thunderbolt, decollato dall'aeroporto San Giusto a Pisa per bombardare il ponte ferroviario di Ponte di Piave. Al ritorno della missione fu inquadrato dalla contraerea tedesca e era in forza al primo gruppo caccia brasiliano di cui faceva parte proprio Brandini, il cui nome di origine italiana appare evidente. Ridotto a un colabrodo l'aereo non restava altro che saltare. Ma, dice un racconto, uno dei suoi piedi rimase bloccato in qualcosa all'interno dell'abitacolo. Brandini ricorda solo di essere riuscito a liberare il piede approfittando all'improvviso di un movimento dell'aereo, ma in quel momento la scheggia di una granata lo colpì alla testa. Si ritrovò in una stalla curato dai contadini italiani, poi finì all'hotel Savoia di Abano che era utilizzato come ospedale dai tedeschi e in seguito a Verona. La resa lo colse mentre stavano trasportandolo in Germania, ma furono proprio i tedeschi a salvargli la pelle grazie alla chirurgia di guerra e poi agli americani. È vissuto fino al 1990 protagonista in Brasile anche di racconti a fumetti. La sua storia rivive ora in pochi, ma significativi reperti. Questi sono i reperti più significativi del crash. L'aeroplano non è penetrato molto in profondità nel terreno, l'ultimo reperto che è l'ogiva dell'elica è stato recuperato a 4 metri e all'epoca se un aeroplano non finiva immerso nel terreno e rimaneva parzialmente in superficie, veniva depredato completamente dalla popolazione locale che ne faceva uso per masserizie, oggetti di lavoro e altro. Quindi i pezzi recuperati sono stati molto pochi e i principali sono quelli che vedete qui esposti. Un attacco del longherone con le solette superiore e inferiore. Abbiamo il convogliatore dei nastri delle mitragliatrici. Abbiamo un pezzo del castello motore e alcuni frammenti delle teste dei cilindri. Questi sono i pezzi principali che sono diciamo riconoscibili e esponibili, oltre naturalmente come abbiamo visto prima l'ogiva con il sistema di variazione del passo e una pala dell'elica a miso standard. Da questa fotografia si può vedere che l'interno del mosso era ancora pieno di olio perfettamente fluido. Come abbiamo staccato il tappo di argilla si vede dal nero che c'è intorno questo olio è uscito proprio completamente fluido. Questo monumento dedicato al primo gruppo caccia brasiliano nasce grazie ad un accordo con l'ambasciata brasiliana perché durante una visita a Roma in ambasciata nel corso di una celebrazione proprio la forza era brasilera abbiamo scoperto che in Brasile si festeggiava tutti gli anni il 22 aprile come festa dei cacciabombardieri e quindi c'è stata questa idea di avere anche un segno sul territorio dove il 22 aprile in pratica operarono i caccia dei brasiliani. Non solo il 22 aprile ma anche il 23 e il 24. È chiaro che il 22 aprile è ricordato perché è il loro record di missioni giornaliere e quindi è rimasta questa data come riferimento. Ecco il vostro museo adesso accoglie anche i reperti e le storie di chi lavora con l'archeologia dell'aria, con l'archeologia dei conflitti ma specificamente dell'aviazione e questo è un grande passo per il vostro museo. Assolutamente è un arricchimento vicendevole perché sia come museo sia come eri perduti Polesine abbiamo sicuramente di che guadagnare. Noi fin da subito siamo sempre stati aperti alle collaborazioni e quindi crediamo che l'unione fa la forza nel vero senso della parola. Quindi è alla base secondo me della storia. È chiaro che la storia è impossibile conoscerla a 360 gradi quindi il fatto di avere una specializzazione in un determinato campo porta ad approfondimenti maggiori.